Quel cialtrone di tuo padre è scappato quattro anni fa, mollando tutti e due. Mi è saltato fuori che papà era ricco sfondato. E a quanta monta? Mortasci sua. Il problema è che sono già sposato e non ho mai divorziato. Ci sarà un modo per uscire dal cul de sac senza rimettere il cul? Sì, Marte è fuori da ogni giurisdizione. Ma sei contento di avermi ritrovato, papà? State, state cazzo su Marte. Grazie, papà! Figlio mio! Oddio il mutante! Papà, devi tornare dalla mamma! Oh, sei vecchio da meno di 24 ore e già mi hai rotti i coglioni. Io sono sempre stata riempita di anelli. Ti credo tutti quelli che sei in gruppo da vero. Uè, guarda che io faccio il pugilato, eh? Sì, al centro anziani. Ma metti in forma per gli addominali, non vedi la tartarunga? La tartarunga, la lumaca. Per la prima volta, Cristian De Sica e Massimo Voldi arrivano nelle vostre case con il fin di Natale. In vacanza su Marte. Più costo rispetto a mamma, la rivente è stupata con bisce. Pumpa! Ari Pumpa! Vai solo là! Dal 13 dicembre, noleggiano su tutte le piattaforme.